Nuova autocarrozzeria Bandinelli, autorizzata Fiat. L'autocarrozzeria, situata a Siena, si occupa di verniciatura a forno, soccorso stradale e riparazione di cristalli. Mette a disposizione dei clienti un'auto sostitutiva qualora il proprio veicolo dovesse essere trattenuto più giorni per assistenza. Inoltre recupera auto sinistrate, svolge servizi di auto-officina e fornisce assistenza legale. La nuova autocarrozzeria Bandinelli è concessionaria autorizzata di ricambi originali Fiat e Alfa Romeo.